Musica Ben trovati a tutti i nostri telespettatori con il nostro spazio dedicato ai messaggi elettorali a pagamento. Con noi in studio l'assessore al bilancio del Comune di Civitavecchia, Giampiero De Angelis, per la prima volta candidato al Consiglio Comunale di Civitavecchia nella lista Moscherini. Buonasera. Buonasera. Ecco, parliamo proprio di questo punto. Per la prima volta candidato al Consiglio Comunale. Molti, vedendola nella veste di assessore al bilancio in questi anni al Comune di Civitavecchia, potrebbero pensare a una sua ricandidatura, ma in realtà così non è. No, è la prima volta che mi candido, mi candido appunto come vedete alle mie spalle nella lista Moscherini e mi sembra ancora una scelta giusta dopo aver passato quasi nove anni dentro il Comune, prima come revisore per quasi sei anni come presidente del Collegio dei Revisori e poi successivamente da giugno 2009 come assessore chiamato direttamente da Moscherini e quindi senza essere passato dal vaglio del corpo elettorale. Ecco, una delle domande che ci si potrebbe porre proprio in questo periodo, quando molte volte anche dall'opposizione sono arrivate molte critiche per quanto riguarda l'indebitamento da parte del Comune, avendo qui lei come assessore al bilancio, se ai cittadini poteva finalmente dare quelle spiegazioni e quindi come si è arrivati a questo indebitamento e se l'indebitamento esiste veramente? L'indebitamento esiste perché bisogna negarlo, sta scritto nella contabilità, sta scritto nei bilanci, l'indebitamento esiste, ma è anche vero che questo indebitamento ha avuto una controtendenza con l'insediamento della giunta Moscherini in quanto nel 2007-2008 non è stato fatto un euro di mutuo, poi negli ultimi anni della gestione Moscherini complessivamente sono stati fatti circa 28 milioni di euro di nuovi mutui che però abbiamo un saldo positivo nel senso di riduzione del debito al momento dell'insediamento in quanto con le rate pagate dei mutui e invece con i mutui nuovi accesi abbiamo ridotto sicuramente l'indebitamento. È stata una scelta necessaria in quanto ovviamente per fare infrastrutture, per fare manutenzioni, per rendere questo comune comunque sufficientemente vivibile era necessario intervenire nel finanziamento della spesa in conto capitale con ricorso ai mutui e qui mi giova a ricordare che nel caso in cui si fosse arrivati per assurdo ad avere trasferimenti da parte di organi sovraordinati, quale provincia e regione, penso che avremmo dato qualche problema grosso alle nostre imprese in quanto avrebbero visto difficoltà nell'incassare le somme dovute. Ecco, parlando di indebitamento non lo possiamo nascondere, c'è, lei stesso lo ha appena affermato, vediamo invece in questi giorni durante la campagna elettorale ma anche prima che sono state inserite nei vari programmi elettorali tantissime opere. Come si sposano queste opere, quindi il finanziamento a queste opere con l'indebitamento? Grazie alla domanda, questo è un grosso problema che hanno tutte le amministrazioni e che leggete anche sui quotidiani questi giorni cioè la difficoltà dei pagamenti della pubblica amministrazione, questa difficoltà dei pagamenti della pubblica amministrazione è legata essenzialmente alla legge di stabilità che viene approvata ogni anno e pertanto impedisce di fatto alle amministrazioni di essere regolari nei pagamenti. È uscita una tabella statistica in cui si vede che la pubblica amministrazione in Italia paga con una media di ritardo di circa 180 giorni, a differenza di Francia, Germania e Inghilterra che stanno dell'ordine di 35-37 giorni a 45. La verità è che noi magari abbiamo i soldi in cassa ma non possiamo pagare per evitare di avere un saldo negativo nel nostro calcolo del patto di stabilità che vi risparmio appunto nella spiegazione del calcolo. Però questo di fatto è il rispetto del patto di stabilità, le amministrazioni lo raggiungono non pagando e tenendo i soldi nel cassetto. Avete sentito più volte i sindaci di città molto importanti che lamentano questa stretta sul patto di stabilità che gli fa avere le casse piene di soldi sui conti correnti del comune in tesoreria ma non riescono a pagare le imprese per evitare appunto di diventare comuni non virtuosi perché non rispettosi del patto di stabilità. Noi non dimentichiamoci che la nostra amministrazione arrivava da un triennio in cui gli bilanci di previsione che sono appunto quei documenti che autorizzano la spesa che sono di programmazione politico-economica o dell'ente erano stati predisposti dai commissari prefettizi che si erano succeduti subito dopo la caduta di Desio e quella di Dottor Saladini. Quindi questa mancata programmazione ha fatto sì che questa autovettura che è il comune di Cirecchia ha bisognava di tagliandi di manutenzione ordinaria e straordinaria che per tre anni non sono stati fatti questi tagliandi. Per due anni la giunta Moscherino non ha acceso nuovi muti ma poi si arriva a un punto che la macchina ha bisogno di manutenzione e questi muti sono serviti anche a questo insieme a tutta una serie di programmazioni e trasferimenti che comunque ci sono stati. Quindi in futuro si può sperare nel finanziamento di opere pubbliche? Questo è il grande dilemma che hanno tutte le amministrazioni. Cioè in futuro ci sarà un grosso problema nel finanziare le opere ma soprattutto pagare le imprese che seguiranno queste opere perché il grosso problema non è tanto quello di avere il finanziamento che comunque presuppone un suo iter, una sua approvazione, una preparazione di progetti da parte dell'ente locale ma una volta ottenuti i finanziamenti poi bisogna avere la speranza che gli enti sovraordinati che hanno approvato questi progetti ti inviano materialmente i soldi perché se non ti inviano i soldi tu non potrai pagare le imprese e le imprese in questo caso falliscono. Beh diciamo non è tanto roseo come si suol dire. Assolutamente no. In futuro in questo modo. Parlando sempre di denaro a disposizione o meno del Comune di Civitavecchia molte volte esponenti politici anche, soprattutto non del centrodestra ma dell'opposizione si sono domandati che fine hanno fatto quei famosi 60 milioni di euro. Allora lei si riferisce alla convenzione Enel con la quale l'Aggiunta Moscherini all'epoca sottoscrisse con l'Enel e che prevedeva tre tranche da 14 milioni la prima, 13 e 13 per il 2009 e 2010 la prima 2008. Poi c'è stata una tranche straordinaria nel 2007 di 10 milioni di euro che la somma fa 60 milioni di euro quindi a parte la confusione che ha fatto l'onorevole Tidei però probabilmente è stata una confusione nella conversione in lire ma non è questo il problema. Il fatto è che comunque sappiamo sono 60 milioni di euro. 60 milioni di euro che sono stati, è inutile che si sta a sbaglierare ai 4 venti minacciando che fino hanno fatto quei 60 miliardi. Certamente non stanno né nelle tasche mie né nelle tasche di qualcun altro ma sono entrate dentro le casse comunali e con quelle sono state gestite sia opere di investimenti e sia per la parte corrente. Quindi andare a cercare poi che cosa ci è stato fatto con quelle somme per la parte corrente vanno a mischiarsi con tutte le altre entrate correnti che vanno a pagare la spesa corrente. È un po' come una persona che guadagna 1.500 euro al mese e gli danno uno scatto di anzianità 100 euro in più e tu gli vai a chiedere dopo un anno con quei 100 euro che cosa ci ha pagato in più. Ci avrà pagato tutto il mix di spese che ha quotidianamente durante il mese. Quindi possiamo affermare che non sono spariti. Ma assolutamente no, ma come fanno a sparire? Ma lo sa benissimo anche l'onore di te che non possono sparire. Parlando sempre di soldi, io ne approfitto, avendo anche un assessore al bilancio quindi di matematica e di conti se ne intende. Ci provo. In questo periodo ne abbiamo più volte parlato a causa della grandissima crisi economica nazionale abbiamo visto un susseguirsi di fenomeni che hanno portato anche alla chiusura di diverse imprese anche a livello nazionale per poi anche qui a Civitavecchia, lo sappiamo benissimo la crisi economica si è fatta sentire. Una risposta che magari tutti i cittadini vorrebbero avere è alla domanda prima o poi ci riprenderemo? Ma sì, ci riprenderemo sarà abbastanza lunga e impervia la strada per la ripresa. Chiaramente il governo in questo momento ce la sta mettendo tutta però deve fare in modo che non vengano strozzate le imprese. Oggi le imprese hanno un grandissimo problema che è quella di rispettare le norme ma anche quella di avere la certezza dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione che tiene ferme miliardi e miliardi di euro nelle proprie casse che appunto, anche per i problemi del patto di stabilità, non erogano alle imprese. Le imprese entrano in sofferenza, una volta entrate in sofferenza non riescono più a pagare i contributi, quindi non riescono a fornire le certificazioni di correttezza contributiva nei confronti dell'ente altrimenti non riescono ad ottenere il pagamento. Ecco lì il cane che si morde la coda. Queste imprese fanno il lavoro, non si vedono pagati, il comune, l'ente non può pagare queste imprese e loro si trovano spiazzate a dover portare i libri in tribunale o magari vedersi i propri beni pignorati da Equitalia. Da questo circolo vizioso bisogna uscirne in qualche maniera e bisogna uscirne attraverso una normativa. È inutile che viene imposto agli enti locali di pagare entro 30 giorni quando sappiamo benissimo che l'ente locale non può pagare entro 30 giorni se non viola la legge di stabilità. Questo è un grosso problema e quindi va risolto. Quindi diciamo che è tutto concatenato a quella legge di stabilità di cui stavamo parlando poco, anzi che porta il comune ad avere le casse comunali piene però a non poter utilizzare quel denaro per poter pagare le imprese che hanno svolto determinate attività. Ma in questo caso la domanda che ci si pone, il comune da parte sua onde evitare che le sue imprese, quindi parliamo qui di Civitarecchia le imprese di Civitarecchia falliscano o comunque collassino su loro stesse può fare qualcosa? Ma bisogna riprogrammare tutta la spesa, questo può fare bisogna riprogrammare tutta la spesa e bisogna sostenere quegli investimenti dei quali si ha certezza del pagamento. Quindi nella programmazione che viene allegata anche al bilancio di previsione del rispetto del patto di stabilità bisogna tener conto anche di questo cioè della pratica nel pagamento perché comunque tu hai un patto di stabilità che devi rispettare che è un saldo di entrate e uscite, cioè le uscite non possono essere superiori alle entrate, però se tu ti porti dietro uno storico di pagamenti che è una massa importante, tu non riesci a pagare il corrente se prima non paghi il precedente e se c'è anche un ritardo nei pagamenti da parte della regione o della provincia, ma in questo caso soprattutto la regione, oppure i trasferimenti da parte dello Stato ecco che entra in grossa crisi tutto il sistema e chi ne fa le spese è l'impresa che oggi deve scontrarsi nel campo degli appalti facendo anche prezzi abbastanza buoni per la pubblica amministrazione che però non è remunerativa per esempio di tutti gli interessi passivi che è costretta a pagare La nuova amministrazione, sappiamo benissimo tutti ormai il 6 e il 7 maggio i cittadini di Civitavecchia saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione il primo compito necessario ed essenziale per la prossima amministrazione non appena insediata quale dovrebbe essere? Il primo compito per quello che mi riguarda è la continuità amministrativa perché noi i compiti ce li abbiamo e già sono programmati da tempo la continuità amministrativa che poi potrete leggere appunto nel programma che è stato presentato e che sarà presentato anche nei giorni successivi è il tema fondamentale quindi quello di proseguire nell'opera sia di stabilizzazione dei conti comunali dal punto di vista finanziario perché quelli sono lo specchio poi per poter, come abbiamo spiegato, per poter programmare nuovi investimenti dall'altra parte spero che ci sia una stabilità anche a livello governativo che dia certezze agli imprenditori affinché possano venire a investire nel nostro territorio perché di opere, ormai il fine che deve perseguire il comune è quello di riuscire a fare opere finanziate dall'impresa quindi finanziate dall'impresa che ovviamente si fa anche carico dei costi e avrà benefici nell'opera quindi per esempio il project financing però per attrarre investitori bisogna avere uno stato meno burocrate meno affamato di imposte e soprattutto più vicino all'impresa appunto per esempio nei pagamenti Bene, io ringrazio tantissimo l'assessore per essere stato con noi ringrazio anche i nostri telespettatori e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti